Musica Arriva al Teatro Comunale di Cagli una delle opere più amate al mondo, la Bohème di Puccini, una produzione italo-georgiana che dopo il successo ottenuto al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena a Cagli mercoledì 12 alle 20. Andata perfettamente, siamo molto orgogliosi e contenti perché praticamente il teatro era full e praticamente non si trovava anche un posto e siamo praticamente, anche oggi a Fano sarà secondo recita e anche di oggi praticamente esaurito biglietti. Invece ancora abbiamo altra possibilità, assistere la Bohème organizzata dall'Accademia, Centro Musicale di Battumi e da Cov Comercio, Pesaro Urbino. Possiamo assistere a Cagli 12 giugno ore 20 grazie al Teatro Comunale di Cagli, il suo direttore Sandro Pascucci e anche il sindaco che praticamente loro in titolo gratuito ha dato possibilità per fare questo spettacolo anche a Cagli. Allora oggi praticamente facciamo questo spettacolo a Fano e dopo tutte le decorazioni e tutto quanto andiamo a Cagli. Dino Lojava è soprano ma anche direttore artistico per questa produzione, la Bohème, che ora attendiamo al Teatro Comunale di Cagli. Come presentare quest'opera? Io credo che prima di tutto ringrazio tutti per chi hanno aiutato a mettere questo progetto a piedi. Secondo che questa opera non è facile, è molto difficile, però siamo riusciti, abbiamo scelto i cantanti, ci sono anche dall'Accademia, ci sono dal Centro Musicale, comunque è un progetto molto molto grande e interessante. Abbiamo questi due spettacoli a Fano che hanno avuto grande successo e invece domani abbiamo a Cagli che voglio ringraziare il direttore e tutti che hanno aiutato. Al Teatro di Cagli non solo prosa ma anche un'opera lirica, c'è attesa per questa opera che andrà in scena mercoledì? Una grande attesa perché l'opera è grande e il gruppo musicale, l'orchestra di Batumi è una compagine di primo livello. A Cagli, grazie a uno stupendo teatro, riusciamo a portare artisti di rilievo nazionale ed europeo. La Bohème, mercoledì prossimo, sarà una nuova occasione per gustare la musica migliore del mondo. Grazie alla ConfCommercio tutti a teatro a vedere l'opera, a un prezzo convenzionale, raro per queste grandi produzioni, al Teatro Comunale di Cagli? Sì, è un prezzo che abbiamo stabilito noi, consapevoli che è un prezzo molto basso per una produzione di qualità e per un'opera straordinaria come la Bohème. Però volevamo assolutamente portare a Cagli, grazie al teatro, grazie al Comune e grazie al fatto che la ConfCommercio sostiene altri costi, compresi quelli dell'orchestra, volevamo che il teatro fosse pieno e quindi portare un'opera così straordinaria a Cagli e abbiamo scelto di fare un prezzo assolutamente popolare. Grazie a tutti.